Buongiorno a tutti, oggi Analytics di YouTube e andiamo a vedere come è andato questo mese. Ho già caricato il video di TikTok, se tutto è andato a secondi piani, abbiamo potuto vedere come TikTok dopo due mesi, cioè settembre-ottobre, di top, è andato un pochino a scendere nell'ultimo mese. Però i soldi sono due e YouTube invece è andata molto bene, è andato veramente benissimo, non posso che ringraziarvi. E prima di mostrarvi tutte le mie Analytics sono precisamente a 2.999 follower, se ne manca uno per i 3.000 e quindi se qualcun altro di voi mi volesse supportare con un click e seguirmi e magari metterai anche un mi piace al video, vi ringrazio e mi aiutereste tantissimo in questi miei progetti. Comunque, Analytics ve la farò vedere qui a schermo, vi metterò un po' di dati. Io direi di partire con la prima, cioè le visualizzazioni ai video. Ho impostato novembre come data. Direi di partire vedendo subito un dato, cioè che 165.000 visualizzazioni in un solo mese, che per me è un risultato gigantesco. Ricordiamoci che sono visualizzazioni comprendenti sia i video normali che gli short, dove ne arrivano la maggior parte, magari ne arriva al 99%, 95, dai siamo buoni. E anche le live. E vi ricordo per chiunque non lo spesse che non ho ancora la monetizzazione attiva, quindi non chiedetemi quanto vuole anni perché è zero ancora. Ancora un sonoro zero. Comunque, queste 165.000 che possono sembrare tante, in realtà sono anche meno. Lo scorso mese, cioè ottobre, possiamo vedere che c'è un 2400 in meno. Cioè nel mese di ottobre ho ricevuto molte più visualizzazioni rispetto a questo mese qua. Questo non è un problema, scenderti un 24%, è un niente praticamente, soprattutto perché gli altri due dati sono saliti. Vuol dire che comunque con meno visualizzazioni ho ottenuto più gli altri due dati. E comunque io direi di vedere un altro dato molto interessante. Per chi non avesse visto l'altro video, molto spiegamente, anche lì era diviso in due parti. La sezione dell'analytics, la prima parte del mese che era alta con tante visualizzazioni e la seconda più bassa, esattamente come qui. La prima parte più alta e la seconda più bassa. Questa è una coincidenza molto particolare. Il giorno di picco è stata indubbiamente, ti direi, il 4 novembre con 15.000 visualizzazioni in un solo giorno. Tanta tanta roba. E comunque se scendiamo sotto a vedere i contenuti principali sono tutti short. I primi dieci risultati sono tutti short che, come ho pronunciato, sono quelli da cui arrivano la maggior parte delle visualizzazioni e la maggior parte degli iscritti. Quindi la maggior parte del pubblico in realtà arriva da qui, dagli short e non dai video che pubblico. Questo è anche un dato molto rilevante, cioè il fatto che si cresce molto di più con gli short che con i video normali. Andiamo alle ore di visualizzazioni che ho ottenuto 1015 ore in un solo mese. E ricordiamoci che 1015 ore con video magari da 15 secondi. Eccezionale questo, eccezionale. Anche qui sempre il grafico segue l'andamento delle visualizzazioni, ovviamente, con tra l'altro una crescita dell'11% rispetto al precedente mese. Non male, non male. Come vedete è quello che vi dicevo prima. Cioè le visualizzazioni sono diminuite, ma le ore di visualizzazioni sono aumentate. E con meno visualizzazioni le persone sono state a guardare per molto più tempo i miei video. Ora, probabilmente anche perché ho pubblicato, ho aumentato il numero di live. Cioè faccio live quasi tutti i giorni e qui vengono considerate anche le ore delle live. Che stando in live un'ora al giorno minimo, se anche solo ho connesse 3-4 persone fisse, sono 3-4 ore al giorno. Quindi una cosa potrebbe essere questa. Mentre passiamo all'ultimo dato di questa pagina, cioè gli iscritti. Che anche questi vanno seguendo l'andamento della prima parte del mese più alta e la seconda più bassa. Comunque, con una crescita del 16% in un solo mese ho ottenuto 1126 iscritti. Devastante questo dato, devastante. E rendo conto che adesso sono a 2999. Cioè ne manca solamente uno ai 3000. E per questo ti rinnovo di iscriverti se non l'hai ancora fatto. E ti ringrazio. Più di un terzo dei miei followers è arrivato solo nel mese di ottobre. E' eccezionale come ho dato questo. Veramente eccezionale. Come si sa vedere i picchi sono vari. Cioè di solito il picco più alto si aggira sui 90. Il primo giorno. L'1 novembre ho fatto 90 followers. Eccezionale veramente. Vi ringrazio. Vi ringrazio di tutto questo supporto che mi date. Siete di una bontà infinita con me. Direi di andare a vedere un altro paio di dati. E cioè se io vado su contenuti ho i dati un pochino più specifici. Ora non andrò in tutti i dettagli. Ma andiamo a vedere un'altra cosa che è molto interessante secondo me. Le visualizzazioni divise per i tre argomenti. Come dicevo prima. Per gli short, le live e i video. E da questo dato qua possiamo vedere che il 94,3% di tutte le mie visualizzazioni arrivano dagli short. Cioè con quasi 156.000 visualizzazioni dagli short. Dalle live streaming 7.700 che è comunque un numero eccezionale. Con il 4,7%. E solamente l'1% delle mie visualizzazioni arriva dai video. 1.691 visualizzazioni dai video. Come dicevo prima. Ce l'ho quasi preso. L'avevo detto il 95. E' il 94,7%. Ce l'ero quasi. Ce l'ero quasi. E se andiamo con i contenuti pubblicati. Come avevo detto prima. Ho pubblicato 12 video. 12 video in un mese vuol dire più o meno tenerne uno ogni 2-3 giorni. Un risultato molto nobile. 12 video che comunque un'oretta per registrarli ed editarli. Un'oretta e mezza servono. A parer mio. Almeno per me. Poi ci sono 30 live streaming. Cioè una media di 1 live al giorno. E 80 short. Cioè una media di 2-3 short al giorno. E come ultimissimo dato che vi voglio mostrare. Sono gli spettatori di ritorno. Gli spettatori di ritorno che mostrano un altro dato interessantissimo. E cioè gli spettatori di ritorno. Per chi non sapesse cosa sono. Sono ad esempio uno spettatore che dopo aver visto un mio video. Decide di vederne un altro. Sono quegli spettatori che guardano almeno 2 video. Delle visualizzazioni totali sono 1600 nei video. E ho 543 spettatori di ritorno. Cioè vuol dire che metà delle persone che guardano i miei video ne ha guardato minimo un altro. Che come vedete qui il rapporto è un terzo. Un terzo delle visualizzazioni sono gli spettatori di ritorno. E perché dico che questo dato è molto interessante? Perché se noi prendiamo sopra gli short. Cioè 16.000 persone sono gli spettatori di ritorno che ho avuto io. Confrontati alle 160.000 visualizzazioni quasi. Al posto di avere un terzo degli spettatori di ritorno sono un centesimo. Come vedete la proporzione è molto diversa. E infatti è più facile fidelizzare il pubblico con dei video normali piuttosto che con quelli short. Bene, io direi molto bene. Io direi che per questo video è tutto. Io sono contentissimo di come è andato questo mese. E vi ringrazio in una maniera infinita. Abbiamo praticamente raggiunto, ne manca sempre uno. Però abbiamo quasi raggiunto i 3.000 followers in poco più di due mesi. E' un risultato spaziale per me. E' veramente un risultato che non mi sarei mai potuto immaginare. Vi ringrazio per tutto questo supporto che mi date. Ora vado a continuare a disegnare un po' il fumettino prima di uscire. Che anche questa è una cosa che devo fare. Vi auguro una buona giornata e ciao a tutti ragazzi. Grazie per aver visto il video.